Taglio del nastro per la mostra del barocco Ingegno che propone un percorso fra opere grafiche e modelli architettonici del 6-700 celebrando la figura di Pietro Berrettini e le botteghe cortonesi di quell'epoca. Al Mike si potranno ammirare 70 disegni, l'autoritratto di Pietro da Cortona, il codice Berrettini, i modelli tridimensionali della chiesa dei Santissimi Luca e Martina nel Foro Romano, i progetti di Palazzo Chigi a Roma e quello per la reggia del Louvre. Le opere provengono dalla collezione di Paolo Gnerucci e da istituzioni quali la Galleria degli Uffizi. Ad inaugurare l'evento le istituzioni locali e regionali, il progetto espositivo dell'architetto Michelangelo Lupo si snoda dalla Sala del Biscione alla Galleria dei Globi, dalla Sala Medicea alla Sala del Tempietto, mentre nel cortile di Palazzo Casali è visibile l'esposizione dedicata a Pietro da Cortona del Fotoclub Etruria. La mostra sarà visitabile fino al 18 di settembre.